Ben tornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Monica Bellucci, cuore di mamma. La super diva italiana ha sfoggiato con orgoglio gli scatti di Deva Cassel, sua figlia In uno slancio di amore ed ammirazione per la sua creatura, l'attrice nostrana ha mostrato al mondo quanto sia straordinariamente bella e quanto sia fiera di lei Monica Bellucci, attrice, sex symbol, modella e anche mamma.Deva Cassel è la bellissima e talentuosa figlia di Monica Bellucci Classe 2004. È nata a Roma il 12 settembre ed è del segno zodiacale della Vergine Proprio come sua madre ha una spiccata propensione per la recitazione, il cinema ed il teatro, attitudine che ha di certo le scorre nelle vene anche grazie alla straordinaria bravura suo padre, da cui ha eredito stile e carattere Nonostante la sua smisurata e viscerale ammirazione per il cinema, Deva ha scelto per il momento di dedicarsi alla moda La Cassel è però giovanissima, e nulla esclude che in un prossimo futuro possa decidere di comparire su qualche set, di un film I suoi fan sarebbero entusiasti se decidesse di percorrere la strada professionale di suo padre, ma per il momento è concentrata sulla moda La sua bellezza è sotto gli occhi di tutti, somiglia tanto alla sua mamma, ma presenta delle similitudini nello sguardo anche con il suo papà Deva è alta 1 metro e 75 centimetri, ha gli occhi verdi e capelli castani, ed è evidente che la genetica abbia giocato a suo vantaggio Deva Cassel è l'orgoglio di mamma Monica.Di lei si conosce pochissimo, le informazioni sul suo conto sono poche Come sono rari gli scatti che la ritraggono nella sua quotidianità, cospicuo è invece il numero di foto di lei in passerella, o che la vedono come testimonial Negli ultimi anni infatti è stata contesa e desiderata da alcune delle maison più importanti al mondo Proprio qualche tempo fa, quando Deva è stata scelta da Vanity Fair Francial, sua madre, l'attrice Monica Bellucci ha deciso di spoggiare con fierezza gli scatti, mostrandoli ai suoi followers Un gesto che ha fatto più di una volta e che testimoniano quanto, la diva nostrana più famosa al mondo sia orgogliosa di sua figlia e dei risultati che ha raggiunto Il loro è un legame fortissimo che l'attrice tutela e protegge Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace, e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video